Gossip Belle Rodriguez diventa mamma per la seconda volta, l'indizio visto in tv? Gossip Belle Rodriguez è incinta del suo secondo bambino? È questa la domanda, che si stanno ponendo i tantissimi fan della show Gir l'Argentina, che questa sera hanno avuto modo di vederla in diretta tv su canale 5 al timone della semifinale di Tu Si Que Vales, la popolare trasmissione del sabato sera, che in queste settimane ha registrato una media di oltre 5 milioni di spettatori con nusciare monstre, che ha toccato la soglia del 30%. Ebbene questa sera gli spettatori di Tu Si Que Vales hanno avuto modo di vedere Belenadote in un bellissimo abito del colore blu elettrico, che Annora una volta ha messo in evidenza e in risalto le sue forme e la sua bellezza stratosferica. Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez aspetta un figlio da Andrea e Annone, eppure i tantissimi fan spettatori, che stavano seguendo la trasmissione su canale 5 hanno notato un particolare alquanto strano, che ha scatenato subito un chiacchiericcio in rete e sul web, dove sono stati tantissimi coloro che hanno commentato la puntata dello show di canale 5 in diretta sui social e ovviamente hanno fatto presente questo particolare. Sì, perché dall'abito a sirena di Belen Rodriguez di questa sera è emerso un pancino sospetto che è stato subito notato da un bel po' di spettatori, i quali si sono chiesti in massa se la showgirl fosse in dolce attesa del suo secondo bambino. Ma qual è la verità dei fatti? Le ultimissime di gossip di queste ore su Belen rivelano che la showgirl è reduce da un periodo non proprio facile dal punto di vista sentimentale. Sui giornali, infatti, si è parlato di un nuovo periodo di crisi tra lei e il suo attuale compagno Andrea e Annone, anche se poi successivamente i due avrebbero ritrovato il sereno e la stabilità, così come testimoniato sulle pagine delle riviste di gossip di questa settimana. Qual è la verità su Belen? È incinta oppure no? Ma Belen è davvero in dolce attesa di un bambino? Al momento non si conosce ancora la verità dei fatti sulla showgirl, anche se in tantissimi si stanno chiedendo la stessa cosa dopo aver visto il pancino sospetto che si intravedeva dall'abito blu di questa sera in diretta a Tussico e Vales. E così adesso si attendono notizie da parte della stessa Rodriguez, la quale nel corso dei prossimi giorni potrebbe fare chiarezza una volta per tutte su questo ennesimo rumors, che riguarda la sua vita sentimentale, arriverà al più presto un fratellino per il piccolo Santiago, vi terremo aggiornati nelle prossime ore. Grazie a tutti.